E' giovedì 19 dicembre, sono le 7, buongiorno, benvenuti ad Omnibus News. Allora, adesso è ufficiale, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà sottoposto alla procedura di impeachment. La Camera dei rappresentanti, infatti, ha votato la messa in stato d'accusa del Presidente. Le imputazioni per lui sono abuso di potere e ostruzione del Congresso. Lui replica che in questa maniera si cerca di annullare il voto di milioni di cittadini americani e aggiunge di credere che il Senato farà giustizia delle accuse ai suoi danni. In Italia, in politica, si va verso il referendum confermativo della legge costituzionale che ha diminuito, che ha tagliato il numero dei parlamentari. 64 senatori, infatti, hanno firmato una richiesta proprio per il referendum. Il Presidente del Consiglio, Conte, esclude impatti per il governo, mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Di Maio, si dice certo che i cittadini confermeranno la riforma. Oggi, alle 13.30, la Giunta per le immunità del Senato voterà sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. L'ex Ministro dell'Interno è accusato dal Tribunale dei Ministri di Catania di sequestro di persona per la vicenda dei migranti di nave Gregoretti nello scorso luglio. Questa volta, ha fatto sapere il Movimento 5 Stelle, i pentastellati voteranno a favore dell'autorizzazione. E poi la notizia economica di ieri, cioè la nascita del quarto polo mondiale dell'auto, è l'alleanza annunciata fra FCA, Fiat Chrysler e il gruppo PSA, cioè il gruppo che fa capo a Peugeot l'anno scorso. Queste le aziende che fanno parte del nuovo polo hanno venduto 8,7 milioni di auto e con 170 miliardi di ricavi complessivi. Gionel Cannes sarà il Presidente e Carlos Tavares, l'amministratore delegato della nuova società. Ma veniamo alle prime pagine. Ecco il Corriere della Sera con due elementi, lo vedete. Qui il referendum fermato, almeno per ora, il taglio dei parlamentari. Gli altri elementi, l'annutti ha rinunciato alla guida della Commissione Banca e poi Di Maio con l'annuncio che i Cinque Stelle diranno sì al processo a Salvini. E poi la foto grande è dedicata a Donald Trump, abuso di potere, ci sarà l'impeachment, Pelosi attacca, il voto è arrivato quando era notte in Italia e poi la nascita di FCA Peugeot, quarto gruppo del mondo. Questo è Repubblica. Scelta diversa per il quotidiano romano, i partiti bloccano la RAI, dice l'amministratore delegato Salini. Qui di spalla le nozze dell'auto. La foto in prima pagina è dedicata a Trump. Ancora la stampa quotidiano torinese che ha in apertura proprio l'accordo che dà vita al nuovo gruppo dell'auto FCA-PSA-Servell'Europa e questa la dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte, ascoltato dal quotidiano torinese. Il messaggero invece punta su un'altra vicenda, l'emergenza medici. In Corsia ci sono primari oltre i settantenni e giovani specializzanti per sopperire alle carenze. Questa è la decisione per cercare di sopperire a quella che potrebbe essere la mancanza di medici. Trump sotto impeachment, lui dice, un colpo all'America. E ancora il sole 24 ore. Tanti gli elementi oggi in prima pagina. Ecco qui, vedete, caos all'Italia. Il governo fa sapere, per bocca del Ministro Patuanelli, di essere preoccupato. E poi l'intervista a Margaret Vestager, commissaria europea, sul prestito alla compagnia. l'Italia, dice Vestager, rischia un'altra indagine. E poi naturalmente FCA, PSA, e quindi la fusione fra le due grandi società dell'auto. Cura d'emergenza è quel titolo che avvenire dedica alle vicende proprio della sanità italiana. Poi stop al taglio dei deputati, Mattarella chiede alle forze politiche più dialogo. Questo è il resto del Carlino, che fa una scelta completamente diversa. Ci ricorda che tra poco tempo, entro il 2022, sarà completata un'ulteriore rivoluzione digitale. Ci saranno da acquistare dei decoder perché non tutte le televisioni che possediamo sono in grado di percepire, di ricevere il nuovo segnale che nascerà dopo il digitale terrestre. Scatta il bonus, ci ricorda anche il Carlino. Questo è il giornale. Di Maio, Processate Salvini, il titolo dedicato alla decisione dei 5 Stelle sulla procedura per la messa in stato d'accusa. E questo invece il referendum, dice il Fatto Quotidiano, 64 salva poltrona, contrario al taglio deciso con legge costituzionale della Lega, li perdone ancora la verità. Tutti i prestiti allegri di Popolare di Bari, il crack del colosso bancario. I grillini, dice Libero, vogliono Salvini in galera. E infine ecco il manifesto, privati di tutto e la vicenda dei migranti rinviati in Libia anche su navi private. Ci fermiamo solo qualche istante. Allora, quasi le 7 e 12 minuti vi debbo dare la notizia di cronaca di questi istanti e che è quella di una maxi operazione contro l'Andrangheta. Ci sono stati, stanno eseguendo le forze dell'ordine per la precisione, il comando dei ROS e il comando provinciale di Vibo Valencia, 334 ordini di arresto in 11 regioni e in diversi paesi fuori dall'Italia. L'operazione sarà illustrata alle 11 dal procuratore di Catanzaro Gratteri ed è una molto importante operazione, viene definita, cerchiamone il nome, ecco qui, rinascita Scott che ha disarticolato le organizzazioni di Andrangheta operanti nel Vibonese e non solo. Un'operazione quindi di grandissime dimensioni. Ma veniamo alle pagine interne. Questa è la prima delle pagine che il Corriere dedica al caso Trump, all'impeachment, votata ieri dalla Camera dei rappresentanti, la decisione di processare il Presidente, lui che replica un assalto all'America. Però qual è l'elemento più importante? Che a gennaio tutto potrebbe arenarsi al Senato, dove Trump ha la maggioranza. Dicono i democratici era obbligatorio votare a favore dei due capi d'accusa nei confronti del Presidente, che naturalmente è furioso. Ma questa è la replica proprio di un parlamentare conservatore, Froome, che dice che il Presidente è molto istintivo nelle sue reazioni e sicuramente si agiterà tanto da danneggiare proprio il Partito Repubblicano. Mentre qui di spalla vediamo lo scambio di lettere ieri fra lo stesso Presidente e la Speaker Democratica della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha adoperato parole durissime il Presidente americano. Vedete, sei spregevole. Scambio di accuse fortissimo. E qui invece la ricostruzione sotto questo zio Sam di tutti gli eventi che hanno portato a questa storia. Qual è il caso? Il caso è il favore chiesto al leader ucraino di mettere sotto accusa uno dei possibili candidati democratici alla corsa contro lo stesso Trump, cioè Joe Biden. E qui di spalla l'affermazione che sarà il Senato ad assolvere il Presidente. Ma naturalmente la storia c'è tutta. Una nazione spaccata in due. E poi qui il ricordo di 21 anni fa il caso Clinton. Eccolo qui con la famosa stagista. Ma veniamo alla politica interna. Ieri il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eccolo vedete, alle alte cariche dello Stato. La politica, questa l'esortazione venuta dal Quirinale, non deve essere solo scontro. Un richiamo ai partiti, guardare oltre il consenso. Questa invece è la foto della stretta di mano proprio ieri fra Mattarella, Cordiale e Draghi. Draghi che però aveva scelto volutamente di non essere in prima fila, quindi in una posizione diciamo di rilievo. Ma c'è stata poi questa stretta di mano calorosa con Mattarella. Allora, oggi alle 13.30 si vota per il processo a Salvini per la vicenda della nave Gregoretti. Salvini è furioso anche perché Di Maio stavolta ha detto sì al processo. I 5 Stelle voteranno a favore come l'altra volta avevano votato contro. Caso Diciotti e il caso Gregoretti è successivo e riguarda un fatto di luglio. Peraltro ieri Salvini, lo vedete, lo annota il Corriere, non è salito al colle perché ha spiegato. Ho la recita di mia figlia. Una visibile scusa naturalmente perché l'appuntamento è tradizionale, quello col capo dello Stato. E qui l'altro elemento del dibattito politico di queste ore. 64 senatori hanno firmato per il referendum confermativo sulla decisione, sulla modifica costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. Ebbene, a questo punto il paradosso è il seguente. Venite su di me perché tanto qui non lo trovate. Il fatto è questo. Se si votasse prima del referendum di primavera, noi dovremmo andare a scegliere 630 parlamentari e 315 senatori perché la legge non sarebbe ancora stata confermata dal referendum. Confermata o bocciata naturalmente dal referendum. E a quel punto avremmo il paradosso, poi il referendum arriverebbe, a quel punto avremmo un paradosso di un Parlamento con più eletti di quelli che probabilmente verranno votati dal referendum confermativo. Mi viene ricordate il caso Lannutti? Bene, l'esponente del Movimento 5 Stelle si è fatto da parte. E poi vedete l'altro elemento, in procura i commissari di Popolare di Bari. E qui c'è il retroscena raccontato dal Corriere che spiega che il passo indietro per la bufera sul figlio, il figlio Alessio Lannutti, si parla sempre di Lannutti, che era stato assunto da Banca Popolare di Bari, quando il padre difendeva quel tipo di istituti di credito. Nel 2015 un ricorso proprio di Adusbef, la società che è stata per anni guidata proprio da Lannutti, contro la riforma di quel tipo di banche. Ieri a Roma ancora Beppe Grillo, Sferse i 5 Stelle, Blinda Di Maio, Paragone cena con Dibba, Di Battista, e fa il dito medio all'ipotesi di espulsione, perché questa è una delle voci che circolano in queste ore. Infine, l'ultimo elemento che attingiamo dal Corriere, beh, un elemento di preoccupazione. Bimbi in auto. In sei casi su dieci in Italia si viaggia senza seggiolino. Si va dal 91-94% di Trento, auto con seggiolino, a bassissimi risultati nel sud, Isernia il 25, Reggio Calabria il 31, Napoli addirittura il 20. Pericolosissimo, perché effettivamente il seggiolino può salvare molte vite. Rapidamente, Repubblica. Questo è lo scenario che racconta Federico Rampini. Donald uscirà comunque vincitore dalla messa in stato d'accusa. Il Paese è spaccato, ma lui ha la maggioranza in Senato. Intervista a Luigi Di Maio, non sulla politica interna, ma giustamente sui fatti internazionali e più precisamente sulla Libia. Di Maio spiega, eccola qui, in Libia, così come in Siria, in corso una guerra per procura. Gli interessi sono molteplici e i protagonisti diversi, perché insieme alle due fazioni in campo, Haftar e Sarraj, ci sono dietro, da una parte, con Haftar i russi e con Sarraj la Turchia. E in tutto questo l'Italia si propone come mediatrice. Non facile. Ecco qui la stampa, ecco la pagina dedicata alle nozze che danno vita al IV Gruppo Mondiale. 8,7 milioni di automobili vendute l'anno scorso e Repubblica ci ricorda che la nuova frontiera sono i motori elettrici. Soprattutto è su questo che nasce la nuova alleanza. Ancora le polemiche sulla RAI, nomine che slittano, si spacca il CDA, stallo drammatico. Questa è l'intervista con l'amministratore delegato Salini che accuse i partiti stanno paralizzando l'azienda di informazione pubblica. E poi questo è il documento di Banca Italia sul commissariamento della Banca Popolare di Bari. Situazione ormai degenerata, vi si legge. L'ultima citazione viene da Venezia. Ecco qui. Turisti in fuga dal capoluogo lagunare. Perché? C'è la paura dell'acqua alta, quella disastrosa di qualche settimana fa. Annullati. 4 viaggi su 10. Dalla stampa vi mostro l'intervista al Presidente del Consiglio, Conte, che parla della nuova alleanza FCA-PSA. Nasce un polo europeo che potrà servire a tutti. Rapidamente, dal sole 24 ore, ecco il caos all'Italia. Preoccupazione da parte del Governo. Lo ha detto ieri il Ministro Patuanelli in un'audizione. Mentre in questa pagina, dal messaggero, vediamo il piano per affrontare l'emergenza sanità pubblica con i pensionamenti, con le uscite. Quindi avremo medici fino a 70 anni e gli specializzanti che dovranno occuparsi del lavoro di tutti i giorni in corsia. Queste sono le principali novità. E l'ultima citazione riguarda avvertimento. Sta per scattare la nuova TV digitale che richiederà a molti un decoder. Bene, chi guadagna fino a 20.000 euro avrà diritto a un bonus di 50.000. Mi fermo. Vedo che il tempo per verso Natale non migliora sicuramente. Buongiorno a Paolo Sottocorona. Dicci tutto Paolo. Buongiorno. Dal nostro punto di vista Natale è ancora abbastanza lontano. Quindi il tempo fa in tempo a peggiorare e poi a migliorare di nuovo. La cosa che ormai vi aspettate non sarà un Natale particolarmente freddo. Allora, la situazione. I temporali sul Tirreno, ma nelle ultime ore durante la notte hanno interessato, hanno toccato prima le isole maggiori, poi si sono un po' spostati proprio sul mare. Questi sono quelli degli ultimi cinque minuti, ma altri hanno interessato le zone del Tirreno. Ancora ce n'è una traccia al centro della Sicilia, piogge abbondanti in Liguria. Insomma, il maltempo questo c'è e ormai diciamo si è piazzato. Vediamo nella prima parte della giornata di oggi le piogge più consistenti, dove abbiamo visto adesso i temporali, vedete sul Tirreno, però compaiono anche, compariranno fra Calabria e Sicilia, in Campania, il nord-est e il nord-ovest, che così come nei giorni scorsi si sono messi come poli opposti, perché poi in mezzo al nord il tempo, anche nei giorni scorsi e al momento, per la prima parte della giornata di oggi, non è particolarmente incisivo per quello che riguarda le piogge, certo, le nuvole abbiamo visto che ci sono. Seconda parte della giornata di oggi, migliora un poco sul versante tirrenico, peggiora sulle zone fra Lazio e Campania, il nord-est, di nuovo, col giallo di qualche precipitazione intensa, così come sull'alto Piemonte, quindi vedete che le piogge sono diffuse un po' ovunque, ma intense, solo in maniera abbastanza isolata, irregolare. Tutta la giornata di domani, domani è una giornata sicuramente con delle criticità, questo è fuori di dubbio, perché si parte dal nord-est, questa volta tutta la fascia alpina e prealpina, ma vedete che fra Trentino, Veneto, si arriva anche vicino alla pianura, con il rosso che indica precipitazioni particolarmente abbondanti, quindi maltempo molto forte. Tutte le Alpi occidentali, tutta la Liguria, la Toscana, sia la parte settentrionale che la parte centrale, la Sardegna, un po' attenuato sul resto del centro e al sud, però il maltempo c'è. E poi la giornata di sabato, in cui abbiamo due canali, uno orientale che prende il nord-est, poi la penisola balcanica, ma questo diciamo non ci riguarda direttamente, e poi l'altro che dalla Liguria, ancora l'alta Toscana, l'appennino tosco-emiliano, scende fino a sud. Vedete tutta questa fascia, comprese Corsica e Sardegna, insomma giornata di maltempo abbastanza marcato. I due flash per chiudere, le temperature minime, ancora relativamente alte, e questa mattina, dove vedete le zone in giallo, anche al nord ci sono valori sopra i 10 gradi, e questo non è, lo ripeto sempre, ma non è affatto normale. E poi lo stato dei mari, che ha il focus, diciamo, soprattutto sullo ionio agitato, gli altri molto mossi, un po' più tranquilli quelli più occidentali, però tenete conto che i venti, insomma, sono sempre abbastanza forti. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Edgardo Vulotta. A più tardi.